Torna a Napoli, Walk of Life, la maratona di Teleton nelle strade italiane a favore della ricerca sulle malattie genetiche. Partirà infatti domenica 26 maggio da via Caracciolo la gara podistica di 10 chilometri a cui sarà abbinata una passeggiata non competitiva di 5 chilometri. All'insegna dello slogan Corri per chi ha una malattia genetica in attesa di una cura, le vie del centro di Napoli si trasformeranno dunque in un percorso podistico aperto a tutti. Spieghiamo che questa, come è stato altre volte, perché sempre Napoli mostra una grande generosità in queste occasioni, sia bella, partecipata e ci sia quella gara di altruismo e di solidarietà che sempre Napoli dimostra. Quindi in bocca al lupo per questa maratona e corriamo tutti insieme per la solidarietà e per la ricerca. A Napoli in particolare l'evento sarà dedicato a Gabriele e Diego Di Bernardo. Il primo è un bambino affetto dall'atropia muscolare di tipo 2 e il secondo un bio-ingegnere napoletano in rappresentanza della squadra di ricercatori dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina, un vero e proprio fiori all'occhiello per Napoli nel mondo per la ricerca sulle malattie genetiche. Qua a Napoli c'è il professor Vallabio che dirige il TGEM, che è un istituto che sta dando non solo a Napoli ma all'Italia intera un prestigio mondiale, portando cervelli da tutto il mondo e riportando in Italia quelli che purtroppo erano andati via e facendo venire dagli Stati Uniti d'America persone a curarsi qui a Napoli invertendo un progetto di speranza che purtroppo è sempre stato invertito. 161 scienziati di fama mondiale oramai che lavorano al TGEM di Napoli, non solo napoletani, non solo italiani e anche stranieri. Tutti qui in una città che tra mille problemi vede in questo un'eccellenza mondiale. Teleton pubblica più di Harvard University, pubblica più dell'intera ricerca scientifica americana, è leader mondiale della terapia genetica e questo è anche grazie alla solidarietà e alla benemerenza di tutti i cittadini italiani e in particolare anche alle qualità straordinarie della città di Napoli che ringraziamo ancora una volta. L'adesione a Walk of Life prevede una donazione a Teleton di 10 euro che dà diritto al ritiro del pacco gara con la maglietta e i prodotti esclusivi degli sponsor. Per tutte le informazioni